Abbiamo chiamato sette ragazzi del 2006-2007 a cercare un po' di conoscerli e cominciare a programmare anche la nuova nazionale che dovrà affrontare l'MHC nel nuovo anno. E' stata una settimana di visionatura da una parte e dall'altra parte continua la preparazione anche fisica della squadra del campus che ha iniziato il campionato. Per cui è stato un lavoro misto, molti ragazzi in campo, eravamo più di 22, quindi sono contento perché tanta voglia di imparare. Tornando all'impegno contro il Pressano, ereditiamo, chiaramente lo stato di forma era quello che era contro Siracusa, non poteva essere altrimenti, però ereditiamo un buon approccio da parte della squadra. Sabato è stato molto bene, nel senso che c'è stata partita nel primo tempo, nel secondo loro hanno preso il margine, ma noi abbiamo continuato a giocare, ci siamo ricordati qual è il nostro obiettivo. Dovrà essere sempre così. Sabato la squadra ha reagito bene anche almeno 10, dobbiamo cercare sempre di essere positivi e ricordarci chi siamo e perché facciamo questo campionato.